Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere 6 cose che uccidono i tuoi risultati la notte in discoteca. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è SeduzioneAttrazione.com Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. La prima cosa che uccide i tuoi risultati di notte consiste nel far fatica ad approcciare e avere ansia d'approccio perché questo ha un vero e proprio peso emozionale su di te e quindi questo va a drenare letteralmente quella che è la tua energia e di conseguenza ha un impatto negativo sulla prima ragazza che approccerai ma anche su tutte quelle successive. E proprio per questo in quello che era il periodo old school di questa roba si inventarono regole come ad esempio la regola di 3 secondi dove si ce la approccia subito, immediatamente quando vedi la ragazza e questa è una regola vaida ancora oggi proprio perché noi vogliamo andare ad evitare che, o meglio, di ritrovarci in situazioni in cui iniziamo a essere, come dire, impattati negativamente da quello che è il nostro chiacchiericcio interno. La seconda cosa che uccide i tuoi risultati la notte è non avere quella che in gergo tecnico viene definita la libertà dal risultato. Cosa significa? Significa semplicemente che quando tu sei un principiante non dovresti aspettarti risultati. Cosa significa ancora? Perché tu potresti dire ma come io vado in discoteca perché voglio i risultati tu mi dici sempre che dovrei avere risultati e poi qui cambi le carte in tavola. No, semplicemente c'è un punto in cui ha molto molto senso essere affamati ai risultati, andarsi a prendere i risultati, eccetera eccetera e c'è un punto in cui in realtà ti devi capire che soprattutto se parti da una situazione di difficoltà gli unici risultati che ti devi realisticamente aspettare sono in termini di feedback dal mondo esterno. Cioè vedere davanti ai tuoi occhi tutta una serie di situazioni che ti danno la possibilità di collegare la teoria che tu studi alla pratica e quindi danno la possibilità al tuo cervello di iniziare ad unire i puntini. Quindi sicuramente arriverà un tempo e un luogo per ottenere risultati quando parlo dei risultati parli di questo però all'inizio questo potrebbe non essere il tuo caso e se è così tu non devi legare il tuo senso di valore, autostima il tuo stato interno a quelli che sono i tuoi risultati ci sarà un altro momento per farlo. Detto questo, ovviamente non è che se peschi un gioli dal mazzo e trovi una ragazza che vuole fare sesso con te vuole uscire con te quello che è, la butti via però all'inizio non te la dovresti aspettare specie se parti da una situazione di grossa difficoltà. Il terzo motivo per cui in realtà uccidi i tuoi risultati da notte è perché non hai aspettative realistiche relativamente a cosa risultato significa facciamo per esempio caso che tu non riesca neanche a catturare l'attenzione della ragazza a questo punto è evidente che per te il risultato è riuscire a catturare la sua attenzione portarla verso di te, a sporgersi verso di te riuscire a entrare in maniera semplice in quello che è il flusso conversazionale con lei se non riesci ad attrarre la ragazza perché ti perdi continuamente in quelle che sono le sabbie mobili del rapport, per te un risultato sarà iniziare ad attrarla e quindi come vedi in realtà tu devi capire cosa oggi risultati significhi per te e questo non significa che non dovrai migliorare di volta in volta significa semplicemente che vuoi contestualizzare quello che i risultati significa e non legare i risultati a quello che è il risultato finale cioè fare sesso con la ragazza perché magari per te in questo momento potrebbe non essere possibile e questo ti porterebbe in una spirale emozionale negativa il quarto motivo che uccide i tuoi risultati è dato dal fatto che tu permetti ai rifiuti da parte delle ragazze di impattare negativamente su quello che è il tuo ego e ragazzi io so che vi sto chiedendo qualcosa di difficile nel senso che noi abbiamo un impatto emozionale inizialmente quando veniamo rifiutati però voi dovete realmente iniziare a capire come funziona questa roba sia relativamente al fatto che venire rifiutati è normale e quindi in alcun modo dovrebbe farti sentire qualcosa internamente provare qualcosa internamente e sia relativamente al fatto che è estremamente normale all'inizio è estremamente normale che tu venga rifiutato ancora 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 quando inizi e di conseguenza se tu leghi il tuo senso di valore all'inizio al risultato questo di nuovo ha un forte impatto emozionale su quello che è il tuo senso di valore la tua self image come si dice in inglese e di conseguenza questo uccide i tuoi risultati perché ti presenti di fronte ai ragazzi che vuoi approcciare con meno sicurezza, con energia più negativa e questo veramente rende impossibile rimorchiare in discoteca comunque molto 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 difficile soprattutto ragazzi carini e belli il quinto motivo che uccide quelli che sono i vostri risultati è dato da quella che è un'analisi immediata ora sono quasi certo che molti di voi in realtà non fanno analisi finita, un'interazione però quando tu sei un principiante ti vuoi rendere conto che praticamente la cosa più efficace che tu puoi fare quando rimorchi la notte è costruire questo state questo social flow di cui ti parlo in tanti video ora, qual è il problema? se tu passi da una modalità sociale cioè in cui stai approcciando ad una modalità analitica subito in cui subito analizzi quello che hai fatto in realtà non è possibile costruire questo momentum e questo state e di conseguenza nonostante in un mondo ideale sarebbe bello che noi subito quando abbiamo il ricordo di un'interazione più fresca possiamo analizzare quella che è la nostra interazione non è francamente ideale farlo subito e questo quantomeno quando sei all'inizio quando sei più avanzato magari è un qualcosa che possiamo considerare ma quando sei all'inizio no quindi lascia quello che è il debriefing per così dire con te stesso l'analisi quindi per fine serata è il sesto motivo se tu hai scoperto quello che è il concetto di state magari lo hai già provato sulla tua pelle e hai visto che in realtà è un qualcosa che funziona è migliore ai tuoi risultati è metterti a pensare oddio non sono in state oppure sono in uno state negativo perché ricordati che quello a cui resisti persiste e ora quello che succede è che molti studenti purtroppo mixano una di queste problematiche tutte queste problematiche insieme e questo porta sia il loro state sia i loro risultati in una spirale discendente negativa stop non scappare subito primo ricordati di iscriverti al canale secondo vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo in questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo quindi clicca il link a destra per accedere a questi video ciao da Joe di Seduzione Attrazione